Io ce l'ho fatta. Io ce l'ho fatta. A te noi ce l'abbiamo fatta. Con crema e cioccolato un 450 ce l'hanno già fatta. Aprete tu la tua gelateria caffeteria sui 6.900 euro. Oppure la tua gelateria con sui 4.900 euro. Pronta l'offerta. Hai sei mesi per trovare il locale. Riceverai gratuitamente gli arretti, le prezzature, l'assistenza e la formazione necessaria. Entra l'antituina, crema e cioccolato. Con noi ce l'abbiamo.